Il corso di laurea in fisioterapia dell'Università Campus Biomedico di Roma è articolato su tre anni e ha l'obiettivo di formare una nuova generazione di fisioterapisti con elevate competenze e con un rigore metodologico alla base. I tirocini clinici inizieranno a partire già dal primo anno e durante i tre anni di corso insieme a docenti esperti e tutor clinici esperti approfondiranno le scienze di base, le metodiche e le tecniche più utilizzate in fisioterapia e con solide evidenze scientifiche che accompagneranno lo studente ad acquisire tutte le competenze che lo permettono poi di lavorare in autonomia. Questo è possibile grazie anche alle aule dotate di lettini elettrici e al Simulation Center che gli permette prima di sperimentare su un ambiente simulato le metodiche e le tecniche per poi metterle in pratica e affinare le tecniche durante il tirocini clinici. Il nostro corso di laurea offre un percorso dinamico e stimolante e è particolarmente attento anche alle nuove tecnologie che sempre di più stanno entrando a far parte della pratica clinica del fisioterapista. Infatti durante il periodo di formazione gli studenti hanno l'opportunità di provare e utilizzare le più moderne tecnologie utilizzate dai fisioterapisti sia in ambito di valutazione che di trattamento per poter avere una completa formazione anche sotto questo aspetto. Inoltre il corso di laurea annualmente organizza seminari e attività didattiche con docenti di fama nazionale e internazionale per offrire una formazione completa e altamente qualificata. Grazie per la visione!